no vabbè raga ho appena fatto uscire il video dei regali e lui me ne fa un altro si dai enfra non eri male e lui me ne fa un altro mamma mia l'assassino sei un pazzo fra grazie bella fra questa la vado subito a mettere allora instant proprio eccola qua voi non la sentirete molto ma io raga in sottofondo la sento grazie mille assassino grazie 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 dan 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 michele approfitta dei 28 spettatori ovviamente deve fare una bella figura grazie mille michi grazie grazie mille io non ho parole non ho proprio parole raga c'è assurdo finalmente se ne è andato ma va in chicco non ho parole raga veramente cioè io assurdo raga assurdo startiamo e startiamo no raga non ne faccio più di partite oh mio zio raga stavolta l'ho clipata visto arminio mamma mia mamma mia raga sempre lui in prima posizione mi sa no no fra non ci credo 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 mai fra che cazzo hai fatto fra ma te te non stai bene te non stai bene te non stai bene c'era ragazzi ragazzi proprio lezzo lui eh no vabbè no vabbè proprio ragà no vabbè no vabbè assurdo raga assurdo lui è assurdo raga ormai lo conoscete raga il minimo ecco raga non ci voglio credere no raga non ci voglio credere lezzo lezzo sei lezzo cazzo belle fra queste mi piacciono un botto oh mio dio oh mio dio fra oh mio dio fra oddio mio santo raga non ho parole cioè non ho parole veramente cioè queste te lo giuro fra vai a inizio live fra ma che cazzo fai fra ma che cazzo no fra che cos'è alto sul più non mi fanno ah il valore a 500 grazie fra grazie mille l'adoro e sto ballo cazzo l'adoro no vabbè fra cioè io io non ho parole non ho parole poi sentite sentite il rumore raga sentite il rumore cioè veramente è bellissimo raga questo rumore grazie mille arminio grazie grazie mille grazie fra che mostro ragazzi che mostro raga non per dire nulla ma non mi salva le clip mi sono appena accorto raga che arminio come se non bastasse tempo fa raga mi regalò anche questo piax qua che vi faccio vedere se lo trovo eccolo qua un piax direi bellissimo raga io lo adoro tra l'altro c'è un sound spettacolare sentite un po' ghiaccioli ittici mamma mia che piccone e niente raga purtroppo non mi salva le clip che vi devo fare comunque grazie mille ma tanto ormai lo sai mi regali sempre ogni cosa fra grazie mille uzzio madonna mia proprio uzzio mio no fra no si si fra clip subito uzzio 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 michele questo è armino questo armino hai visto madonna mia raga no armino colpisce ancora lezzo proprio sei lezzo su di sei lezzo sei un cazzo di lezzo siete due lezzi madonna mia non ho parole raga ve lo giuro oddio mio mannaggia a te sbrains mannaggia a te che mi va a regalare una mimetica spettacolare purtroppo regala tip ovviamente non dico ovviamente l'ho persa per me è una cagata pazzesca e c'è proprio non l'ha registrata comunque per regalare questa questa mimetica fantastica a parere mio ci sta veramente un botto guardiamole su lo scar verifiga pompa ci sta il 90 anche sembra molto apex legend ci sta mi piace cecchino anche non male e per il resto ci da ci sta comunque una skin da 300 non è animata ma raga comunque florescente quindi tanto tanto roba e ringrazio ovviamente sbrains grazie grazie mille raga ma chi è alex alex youtube chi è tra di voi raga lo scrive in chat dai noi ricominciamo davvero raga sei te mattia minchia allora dopo ti inviti e vento lo so adesso si non sei te ti è arrivata da un'altra lui no cosa sta succedendo raga un'altra donazione da daemon daemon pazzo sei buona fortuna sono mattia ronchi non sono tanti vabbè non importa tra l'importante è il pensierino ma lo sai oh grazie fra grazie mille valetante mi mancava quindi aggiunto instant nel mio armadietto grazie mille bro grazie 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 mille bombe cioè raga lo startata tipo due minuti fa dai raga grazie grazie mille grazie mille matteino grande mod grazie 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 fra grazie bello 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 raga se volete andiamo a fare la sfilata eh cazzo che fai non lo metti certo che lo metti ascoltatemi più mannaggia a michele ho 42 spettatori raga allora ora apriamo il regalo di michele mannaggia a lui no vabbè oggi oggi è giornata di bali veramente top top del top grazie mille amici grazie bomber grazie bomber grazie bomberozzo oh giate raga eh vediamo il tempo di trovare il balletto grazie mille i bichi what the fuck ciaco puttana are you serious bella nico play raga ma chi è ciaco puttana si raga l'ho aggiuntito a tutti i punti raggiungo sempre a tutti i punti aspettiamo che scriva in chat magari so io o no franci grazie no franci sono bomber grazie mille che bomber grazie fra grazie grazie veramente stile ninja attenzione tanta tanta roba grazie fra grazie grazie mille veramente ah raga eh purtroppo nella live dove ho avuto più regali di tutti non me ne ha salvato nemmeno uno ma tranquilli che mi ricordo cose mi hanno fatto e attenzione raga tanta tanta roba per loro oltre al balletto che se trovo ve lo faccio subito vedere allora non è qui non è qui aspettate raga oltre a questo ho questo balletto elettro swim da parte di micchi michele ha avuto la brillante idea di farmi non una non due ma ben tre skin in una live sola esatto ti capito bene perché mi ha fatto artigliere lucente credo sia una delle skin di colore più belle che ci siano raga tanta roba ecco magari con questo backpack no andiamo subito alle vagli lo grazie eeeh ok abbiamo artigliere lucente raga un botto un botto figo veramente lo ringrazio ma ormai lo sa grazie micchi del regalo un botto figo 1500 back per questa skin poi attenzione raga mi ha fatto anche bombare l'oreducente perché raga ancora non lo avevo bombare l'oreducente e ha pensato cioè ha pensato lui a farmelo e raga veramente ho rivalutato questa skin quindi veramente tanto figa anzi l'andrò anche a salvare quindi tanta roba e come se non bastasse raga quel giorno c'era anche nello shop la nostra bella ladrona eccola qui skin veramente figa non solamente per come vestiamo ma anche come proprio come come struttura raga veramente figa mi piace molto clear e niente raga tanta tanta roba per questa skin e inoltre sempre la solita live abbiamo assassino raga attenzione assassino che su youtube è senza nome che va a fare non uno ma anche lui due regali attenzione perché mi fa bianco accecante con i suoi stili selezionabili eccolo qua con e senza casco skin veramente veramente figa che ho utilizzato veramente tanto soprattutto nel periodo invernale perché raga si mimetizza a bestia e poi inoltre abbiamo fatto anche una mimetica che vedete qua è quella qui com'è che si chiama played ladrone per l'appunto da ladrona che è la schiena che mi ha fatto Michele questa qua played ladrona ladrone scusatemi che si è un po' una tovaglia però non è male dai ci sta ci può stare ci può stare come mimetica tanta tanta roba e niente raga io che dire vi ringrazio sia amichi ovviamente che anche assassino per questi regali non me ne sarei mai aspettato e vi ricordo raga codice creatore con soggetti da dominati per shoppare qualsiasi cosa e niente raga grazie mille grazie veramente infinito a voi due la lipo per bene ovvia se no qui iniziamo d'accordo no vabbè son bomber grazie 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 dei multini un buon fisher non si rifiuta mai eh già e perché no rai e perché no questo va diretto nel video e uscirà presto grazie mille e molti son bomber grazie 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 madone quanto è bello stupal quanto è bello stupal che goduria tanta tanta roba grazie fra ma che è che il mona che batte la porta e che chiude oh grazie mille leonardo per il regalo andiamo a vedere subito cos'è groove sexy canso canso grande leo gc dove dove ecco qua grazie 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 ragazzi sono le dieci e mezzo di sera ho appena finito di pubblicare la mappa creativa della sfilata quindi raga vi ricordo di andare sotto in descrizione perché ci sarà il codice della mappa e niente mi trovo con andrew one attenzione grande signor davide ah comunque sono code davide dominati andrew one 07 lo so grazie mille let's go nuove emote grande fra mi piace mi piace un bot grazie fra però purtroppo devo andare anche via quindi comunque la metto a mettere subito grazie fra veramente sposto di questo perché tanto non riesce mai a prendere il tappo ed è un po' inutile grazie mille andrew grazie 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 tanta roba grazie andrew vaga non ci credo anche quando non sono in live e appena tornerò a scuola mi trovo subito regali da parte di persone di miei iscritti grazie mille hope grazie di cuore fra grazie 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 veramente andiamo a vedere cos'è oh my god tanta roba grazie della musica che andrò subito a cambiare musica rilassante quindi goditi questa musica rilassante grazie mille grazie 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 ripperotti andiamo qui oh ora si che prima no no a parte scherzi grazie mille hope veramente tante tante grazie raga il solito giorno di sera dopo scena arrivo qui apro forte un altro regalo da hope madonna tanta roba tanta roba mamma mia hope no vabbè raga tanta roba io non ho parole veramente ti ringrazio un botto ti ringrazio veramente un botto io non lo so veramente grazie grazie mille hope grazie veramente grazie 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 senza parole hope senza parole grazie ancora spero che l'abbia shoppato con il codice datore denominati mi raccomando utilizzatelo tutti grazie 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 lo vedo è uno solo per caso si è uno solo è uno solo eh nooo simbolo oh ecco sta dando via sta dando via oh mio dio nel grano oh mio dio balla balla oh headshot poi nooo quel secchio sono mostri questi ti lanciano ahia sono pericolosi headshot oh shit nooo ma oggi è lì in botto mi cambia raro ma i bravi scassi enziati che è più è lì in botto con quelli via oh oh Ciao!